Musica Dal ristorante Sea River di Pescara il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro programma che oggi torna ad ospitare. A distanza di qualche tempo il direttore generale dell'ASL di Pescara, il dottor Claudio Damario, con cui tra poco brinderemo questo nostro incontro in un locale che torna ad ospitare la nostra produzione televisiva. Salutiamo l'amico Michele che con grande passione ma anche con grande dedizione e professionalità porta avanti questo esercizio di ristorazione, davvero un fiore all'occhiello dell'intera area metropolitana. Siamo davanti al fiume Pescara, è bello esserci, un'atmosfera fantastica e quindi direttore io vorrei subito brindare questo nostro incontro davvero molto interessante. Cin cin. Buongiorno, cin cin. Direttore tra poco arriveranno antipassi, primi e secondi, tratti dalle tradizioni culinarie e marinare della nostra città. Qui si mangia davvero molto bene, è un locale che davvero fa onore alla città di Pescara, come si suol dire. Io vorrei subito entrare nel merito del nostro appuntamento, iniziando da un fatto di cronaca perché anche oggi si continua a parlare di questi tagli, dei punti nascita nella nostra regione che inevitabilmente avrà dei riflessi anche per le strutture più grandi. Ci sono state forti fibrillazioni interne sia nella coalizione di centro-sinistra che guida la regione Abruzzo che nell'opposizione, quindi nel centro-destra. La verità dove sta? Vogliamo fare chiarezza di tutto quello che si è detto e si è scritto a proposito di questi punti nascita? La verità è che piuttosto che parlare di tagli, dobbiamo parlare di riorganizzazione. Sappiamo bene che noi in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro, così come voleva l'Agenzia Sanitaria Nazionale e il tavolo ministeriale composto dal Ministero dell'Economia e del Ministero della Salute, ci siamo dovuti adeguare agli standard che sono previsti in tutte le altre regioni cosiddette virtuose. Naturalmente noi la prima cosa che abbiamo dovuto affrontare è l'eccesso di ospedali, avevamo troppe strutture ospedaliere, troppi posti per acuti, troppi doppioni. Soprattutto avevamo pochissimi posti per le cosiddette malattie croniche residenziali. E quindi gran parte di questi ospedali che erano sottoutilizzati, che diciamo con la verità, c'era molto personale ma c'erano pochi pazienti, sono stati riconvertiti. Ecco, per restare anche nel caso specifico, sotto le 500 nascite... Ma io ho un'altra cosa che forse tecnicamente non è stato spiegato, né ai politici né ai cittadini, perché poi il ruolo dei tecnici è quello di spiegare con responsabilità che cos'è un punto nascita. Un punto nascita è un luogo di cura che si occupa esclusivamente di una piccola fase del percorso della nascita, che è l'evento diciamo acuto della nascita e che dura pochissimo rispetto a quello che invece è un percorso nascita. Quindi la nostra regione si è preoccupata molto poco del percorso della nascita e ci si invece irrigidisce molto sull'attimo del parto. E questo è un problema culturale, non è stato spiegato né ai sindaci dei paesi né ai consiglieri, secondo me spesso si dovrebbero portare i tecnici in consiglio regionale. Sarebbe un modo per spiegare e dialogare sia con le forze politiche che con i cittadini. Questa riorganizzazione è indispensabile. È indispensabile per raggiungere quegli standard, non tanto di standard occupazionali in termini di posti letto, ma quegli standard di sicurezza che la nazione ci chiede. Perché? Perché l'analisi fatta dal gruppo degli esperti regionale, formato da ginecologi neonatori, ha stabilito che in questi punti il problema principale è la mancanza di sicurezza per la mamma e per il bambino. E quindi il fatto di riconcentrare negli ospedali cosiddetti di riferimento, AB, la maggiore sicurezza e la maggiore competenza per quanto riguarda la mamma e il bambino è un atto dovuto nei confronti della nostra nazione, soprattutto del Ministero della Salute. Capisco la preoccupazione quindi dell'Aggiunta, del Commissario d'Acto e dell'Assessore di mirare a questa riorganizzazione. Naturalmente questa riorganizzazione non può essere fatta in modo sic simpliciter, in modo burocratico. Va fatto un percorso, un cronoprogramma, che è quello che noi stiamo preparando da presentare quindi alla Regione e al Ministro. Perché? Perché in questa riorganizzazione noi dobbiamo andare a ripartire, come ho detto, da tutto quello che è il percorso della nascita, che inizia nel momento in cui una coppia decide di avere dei figli, quindi dobbiamo potenziare anche lì gli aspetti che riguardano la prevenzione di alcune patologie a trasmissione genetica, ad esempio, e questo manca. Cioè la parte consultoriale che spesso una coppia scopre di poi di avere una malattia e trasmissione familiare dopo che si è verificato l'evento, invece sarebbe meglio cominciare a fare uno studio di coppia preventivo. Poi c'è tutta la fase in cui la donna che entra in gravidanza dovrebbe essere assistita in modo sociale, anche perché oggi anche il costo dell'assistenza durante la gravidanza ha spesso un costo privatistico, invece tutto deve rientrare in una gestione mutualistica, cioè con l'impegnativa avere diritto a fare tutto quello che una donna di cui ha bisogno, che anche questo è un segno di civiltà, garantire tutte quelle forme di sicurezza, faccio un esempio, la indagine morfologica ecografica non può essere un appannaggio privatistico, deve essere una garanzia mutualistica per tutte le donne di tutte le fasce sociali. Quindi questo deve essere l'obiettivo. Quindi diciamo il percorso NACI inizia con la prevenzione di coppia, si attualizza con una serie di controlli di monitoraggio della gravidanza e tutto questo può essere fatto comunque negli ospedali dove i punti nasciti vengono chiusi. Quindi tutta la fase che previene si può fare benissimo negli ospedali dove esiste la nascita, ma si fermerà un primo livello di monitoraggio della gravidanza. È logica che poi la fase della nascita deve essere invece localizzata negli ospedali attrezzati per garantire anche la sicurezza del nascituro. Questo è un po' il progetto che ci chiede. Quindi lei è stato d'accordo? Io sono tecnicamente, che sono anche un medico, d'accordo con il provvedimento che è un atto dovuto. Però dobbiamo essere intelligenti a far sì che poi da questa attuazione non ne derivino dalle conseguenze di rischio per i cittadini, quindi per le mamme e per i bambini. Perché la fase che poi ci impegnerà di più a noi direttori generali e alla regione stessa è nel creare quel percorso garantito che va fino a un anno dopo la nascita del bambino nell'esame delle malattie, verificate se dei problemi che ci possono essere durante il parto. Quindi è tutto un percorso lungo. Nella fattispecie mi preoccupo però molto e mi preoccupo come medico di garantire che cosa? Il trasporto neonatale. Che come ben sappiamo, faccio un esempio di Pescara, noi ci troviamo a gestire molti malati neonati sotto peso, una serie di neonati che nascono con malformazione e spesso questi malati, questi piccoli pazienti, arrivano da altri ospedali della nostra regione o da extra regione in condizioni veramente drammatiche. Quando ormai si è manifestato un evento della compromissione perché il trasporto è stato tardivo, non c'è stata una buona rete di trasporto, capisce? Quindi cos'è che ci preoccuperà molto? Nell'organizzare, una volta che noi riduciamo questi punti in ascio, un ottimo trasporto per la mamma, che si chiama STAM, Servizio Trasporto Mamma, e un ottimo trasporto intensivo, quindi anche con le attrezzature dovute, per il neonato, che si chiama STEN, Servizio Trasporto Neonatino. Bene, questa sarà la garanzia per mamma e bambino, quindi concentrare i parti su alcuni ospedali più grandi e garantire queste due cose, il trasporto della mamma e il trasporto per il bambino, affinché non si verifichino più quelle cose che purtroppo sono verificate in Sicilia, che tutti conosciamo, dove se ci fosse stato un'unità mobile di soccorso, in carenza di un posto letto, quel nonato veniva assistito e garantito da un'unità mobile attrezzata. Questo è il concetto. Direttore, ma lei come vede? Una mamma che deve partorire a Sulmona, perché la nostra regione è messa in modo davvero molto strano, ci sono degli ospedali doppioni, però in certe zone addirittura è davvero difficile raggiungere un ospedale in tempi brevi. E allora? Ma guardi, io sono del parere di vedere i numeri, vedere quanti sulmonesi di fatto nascono a Sulmona e quanti sulmonesi non sono nati a Sulmona, quante mamme già adesso non vanno per Sulmona, quindi anche questo è un dato importante, perché se qua all'ospedale vanno già poche donne, perché la donna sceglie, noi che possiamo obbligare... Però c'era un limite delle 500 nascite, un limite superato, era stato superato sia dall'ospedale di Atri, che lei conosce molto bene, sia dall'ospedale di Ortona. Io dico, il mio mestiere è quello di fare, gestire con le risorse che ci vengono date. Se la commissione dei tecnici, che è una commissione di esperti di grandissimo valore, che sono universitari, ci sono operatori nell'ambito ginecologico, nell'ambito neonatale, ha deciso che questi punti non sono più sicuri, noi non possiamo far altro che prenderne atto. Anche il Ministro Lorenzino è stato categorico in quel senso nel giorno scorso. Quindi vuol dire che secondo le linee guida nazionali e internazionali, oggi parlare a livello generale, io non farei un discorso di 500, 480, 510, diciamo che gli esperti dicono che la sicurezza di un punto nascita, che va potenziato, perché come adesso non garantiamo le 24 ore, garantiamo solo un servizio, diciamo 12 ore, talvolta con una reperibilità, si raggiunge attorno ai mille parti, che facendo una media stiamo parlando di tre parti al giorno. Al di sotto di questa numerosità, l'esperienza non permette quindi al medico anche di sviluppare competenze, diciamo in caso di emergenza. Però questo è stato, diciamo, questo giudizio è stato espresso in una commissione tecnica. Quindi il politico sente i tecnici e noi dobbiamo quindi far sì che per il futuro garantire la permanenza regolare a norma di quello che rimane e il potenziamento di quello che potrà succedere. Anche perché Pescara poi è l'unico che rimarrà con un unico punto nascita. Quindi ancora di più siamo preoccupati da un'invasione. Certo, ritiene che il problema sia stato strumentalizzato politicamente alla fin fine, alla luce di tutto quello che è stato detto ed è stato scritto. Parliamo senza penne sulla lingua. Io ritengo che per far capire le cose alle persone bisogna parlarci. Secondo me si è parlato poco prima di prendere questa iniziativa, forse a livello politico, a livello anche di gruppi, a livello anche spesso di strumentalizzazione anche da parte dei professionisti. Perché sai, quando si fa una riconversione ci si rimette in gioco un po' tutti, a livello professionale ci si deve spostare e riorganizzare. Quindi sicuramente è un fenomeno già visto, quello della reazione e della conservazione di alcuni comportamenti. Però francamente se decidiamo di voler andare verso uno standard elevato di qualità e di sicurezza, questo è un percorso obbligatorio. Direttore, ci dica la verità, quanto c'è ancora da tagliare nel capitolo sanità per rientrare alla normalità, come si suol dire? Capitolo sanità non c'è da tagliare nulla, anzi c'è da investire. Io parlo di spreco. Sì, sì, dico che per investire non c'è bisogno di avere altri soldi, c'è bisogno di utilizzare bene quello che noi abbiamo. Faccio un esempio. Il 40% dei pazienti che stanno oggi ricordati in ospedale non devono stare in ospedale, perché hanno bisogno essenzialmente di fare un'assistenza e non di fare una cura. Cioè stiamo parlando di persone anziane, stiamo parlando di persone che hanno malattie croniche, stanno parlando di persone sole, che non hanno nessuno che le accudisce a casa. Allora, se noi riuscissimo a ricollocare bene queste persone che stanno in ospedale in modo inappropriato, stiamo parlando di una spesa di circa il 30% dell'attuale spesa sanitaria. Se noi andiamo a fare 2 miliardi e 500 mila euro, quasi, diviso 3, significa che noi abbiamo la possibilità di gestire meglio 600 milioni di euro. Che significa? Se noi creiamo strutture residenziali, quindi RSA, RA, strutture protette, centri di urni, cioè il malato di Alzheimer non può essere ricoverato in ospedale, se non nella fase acuta. Nella fase di monitoraggio, visite di controllo, esercizi riabilitativi, viene in ospedale o in fase ambulatoriale o per 12 ore, dalla sera alla mattina, dalla sera può tornare benissimo a casa. Quindi, se noi capiamo che una giornata di dirigenza media costa 800 euro, una giornata di residenzialità costa 60 euro, capisci che abbiamo una forchetta di 700 euro che noi stiamo spendendo malissimo, che sarebbero sufficienti per migliorare l'assistenza, la qualità percepita, perché se uno non ha bisogno di stare in ospedale, in ospedale vive male, non è che vive bene. Se uno invece ha una malattia seria, acuta, sta in ospedale e lì è costretto a stare a letto. Quindi diciamo che molte risorse vanno prese e messe sul territorio dove il paziente deve trovare quello di cui ha bisogno. Un esempio tipico è il potenziamento dei distretti, dove oggi si può fare tutto, dagli esami, si può fare le visite, si possono fare le consulenze psichiatriche, si possono fare i piccoli interventi, la dermatologia, possiamo trovare il pediatra, la guardia media, quindi questo ci deve far rivalutare molto le cure primarie, quindi il medico di famiglia, il pediatra, questa è la vera sfida. A proposito di riorganizzazione, lei è per l'ASL unica in Abruzzo? Ma io sono per una sanità che funziona. Il modello di ASL unica o doppia o tripla è un problema più burocratico che è un problema di carattere organizzativo. Però permetterebbe di risparmiare tanto. Sì, però tutto si può fare, ma si deve fare anche lì un percorso, perché se noi mettiamo insieme le inefficienze delle singole ASL abbiamo un aumento delle inefficienze moltiplicato per 4 o addirittura è. Quindi i processi di fusione delle aziende sanitarie o di riorganizzazione si basano su un progressivo progetto che mette in comune le risorse umane, gli aspetti edilizi, la logistica, cioè come muovere materiali e beni, e soprattutto la digitalizzazione. Cioè se noi non risolviamo questi grossi problemi che noi abbiamo in termini di digitalizzazione, quindi la telemedicina, l'organizzazione, l'informatizzazione delle procedure, delle cartelle cliniche, andremo a sommare tante inefficienze che poi ci ritroviamo non moltiplicate per 4 ma addirittura per 16. Poi diventa esponenziale inefficienza. Ma pian piano ci si arriverà, secondo lei? Ma allora, diciamo subito, io mi baso sulle evidenze. Le evidenze, diciamo, sia economiche, in termini di risparmio, che in termini di funzionalità, non ci dicono che l'ASL unica sia migliorativa, anzi è peggiorativa. Quindi io parlo di evidenze, parlo di quello che è successo nel Molise, dove il debito è aumentato da quando hanno unificato le aziende. Mi sembra che siano migliorati gli aspetti assistenziali. Parlo, ad esempio, dell'ASL unica Regione Marche, che per funzionare ha creato aziende ospedaliere. Quindi, di fatto, non c'è un'ASL unica, ma c'è un'ASL unica di committenza. Quello sì, può funzionare. C'è un'ASL unica che governa i grandi processi amministrativi. Quindi i concorsi, le gare d'appalto. Questo ha senso, avrebbe senso. Un'ASL di committenza unica. Però poi ci vogliono le aziende di produzione delle malattie, cioè dove si rega il malato. E quelle lì devono avere un'autonomia gestionale organizzativa in termini di approccio alla malattia. Quindi un'ASL unica si regge solamente se si fanno delle aziende sanitarie. Allora c'è una compensazione. E creando delle aree vaste territoriali. Alcuni modelli di questi funzionano. Cioè danno efficienza più che altro. Perché poi più che perseguire solo il risparmio, bisogna perseguire l'efficienza e l'efficacia. Cioè i risultati in termini clinici. Perché se noi perseguiamo solo l'efficienza economica e in sanità facciamo i disastri. L'Abruzzo sta per uscire dal commissariamento. Lo speriamo e lo sperano tutti. Pescara e Chieti. In pratica l'area metropolitana è caratterizzata da due grandi ospedali. Eppure il nostro governatore d'Abruzzo a più ripresa ha parlato di un'altra struttura da costruire. Un'altra grande e mega struttura ospedaliera. Sarebbe indispensabile, sarebbe necessaria o sarebbe inutile? Come le opposizioni continuano a tonare da qualche tempo a questa parte. Sì, ma tutto si può fare. I progetti dei ospedali metropolitani esistono in Italia. Sono stati anche, diciamo, a volte un momento di ragionamento, no? Di come eliminare alcuni doppioni, di come mettere insieme più specialisti o più competenze. Certo che anche qui i progetti di questo tipo hanno bisogno di 8-10 anni. Non sono progetti da fare in due anni, diciamo. Perché? Perché intanto bisogna ragionare in termini di fornitore. Nel senso, se ci sono dei contratti in essere, questi contratti hanno delle scadenze. Quindi due aziende che mettono insieme, diciamo, la parte che riguarda gli approvvigionamenti devono poi decidere chi sarà il fornitore. Se ci sono contratti in essere, bisogna, diciamo, quindi riorganizzarli. E quindi completare queste procedure. Poi c'è il problema dell'edilizia ospedaliera. E quindi la riconversione. Perché è vero che si andrebbe su una struttura nuova, ma nel frattempo scegliere quali rimangono e quelli che sono utili al percorso assistenziale. Cioè il problema delle tecnologie, che o vengono ricomprate ex novo quando si fanno questi progetti, o addirittura vengono, diciamo, disinvestite dal punto di vista strategico. Perché quello che si è visto nelle esperienze anche di regioni che hanno fatto questi progetti, diciamo, avanzati, anche basati su project financing, cioè sul fatto che c'è una multinazionale che costruisce l'ospedale, in cambio si prende tutti i servizi per 30 anni. Pulizie, calore. Però noi adesso, questo esiste già. E quindi per disinvestire c'è bisogno di 4-5 anni, c'è bisogno di aspettare le scadenze contrattuali dei fornitori in essere. C'è bisogno anche di stabilire, facendo una specie di studio, anche, diciamo, dell'età anagrafica dei professionisti, perché se noi andremo da 4 unità complesse di chirurgia, e ne devono rimanere 2 a 1, chi è che salta come primario? Capisce? Anche quello quindi va fatto con due metodi, o il metodo della cronologia, senza chi va in pensione prima salta prima, o il metodo della riconversione anche concorsuale. Cioè sono aspetti che in sanità spesso si vedono in modo molto semplicistico, che in sanità, io sento parlare della sanità, la siringa, le cose, non c'è nulla di più complesso della sanità, è giusto da 30 anni, e chi pensa di ridurre la sanità a un processo lineare, ci si fa sempre male. La sanità è un processo ramificato. Quindi, quando si parla di azienda unica, bisogna cominciare a dire bene, quali saranno i professionisti che rimangono a fare questo lavoro, quanti ce ne serviranno, quali saranno i fornitori, quali saranno le strutture idili da migliorare, da implementare o da riconvertire anche in termini di edilizia residenziale, perché faccio un esempio, l'ospedale di Pescara, se finisce col suo ruolo, non è che può rimanere così, dovrebbe essere riutilizzato con una progettualità di altro tipo. Quindi tutto è possibile, però ci vogliono poi a 360 gradi delle progettualità, perché altrimenti diventerebbe anti-economica una misura di questo tipo. Direttore, è vero che molte delle strutture ospedaliere della nostra regione non sono a norma? Il problema dell'edilizia ospedaliera non è un problema da affrontare al più presto? Noi abbiamo il dramma dell'edilizia sanitaria, in che senso? Che molte strutture sono state edificate tantissimi anni fa, ma anche quelle più recenti, come l'ospedale di Pescara e il Policlinico di Chieti, hanno delle carenze, carenze strutturali, carenze diciamo sismiche, che è un altro problema che oggi le strutture devono essere anti-economiche, e molte strutture non sono anti-sismiche. Ne dobbiamo tenere conto. Quindi va rivisto tutto il problema della sismicità che riguarda tutti gli ospedali, noi abbiamo impegnato adesso grandi progetti, grandi risorse sull'anti-sismicità di Pescara e di Popoli e di Penne. L'ottenimento di certificati di prevenzione anti-ingenti, che sembra una stupidaggine, ma anche lì molte scuole e molte strutture pubbliche non hanno questo certificato. Abbiamo il problema poi delle strutture cosiddette residenziali sanitarie o delle strutture distrettuali. Faccio un esempio, Pescara non ha a tutt'oggi strutture distrettuali di proprietà, tranne quello di Scafa, sta pagando affitti devastanti da 30 anni, su strutture che non sono a norma. Quindi anche lì va fatto un discorso, dire bene, investiamo acquistando strutture nostre o edificando strutture nuove a norma. È l'esempio di quello che abbiamo fatto su Montesilvano, che ormai è addirittura di arrivo nel prossimo sanitario. È l'esempio di come abbiamo ripreso in mano un edificio edificato e abbandonato perché non era finalizzato al distretto, ma all'RSA come Cepagatti. Ieri abbiamo riconsegnato alla ditta, abbiamo consegnato i lavori. L'idea di acquistare definitivamente, dico per Pescara, l'ex distretto, ex clinica Baiocchi, che a tutt'oggi non è ancora acquistato. L'idea di costruire un distretto, dove tra l'altro avete messo in cattiera diverse iniziative. L'idea ad esempio finalmente di dare ai cittadini di Porta Nuova, circa 70 mila abitanti, un distretto ed eliminare le strutture, anche quelle non a norma che ci troviamo. Tanto i Nassu ormai ci fanno le prescrizioni dappertutto, quindi non a norma a Pescara Centro, via Pesaro, via Chiedi. Quindi, come vedete, come pensare di fare solo il problema burocratico? Il problema è reale e va vissuto, perché poi una buona sanità si avvalora anche di una buona qualità edilizia, di ambienti toni e di qualità percepite. Certo che non ci si può arrivare ovunque, perché i problemi sono tanti e le tematiche da affrontare davvero sono innumerevoli. Però io le giro anche una domanda di un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A proposito degli affitti che si pagano e che si potrebbero evitare, noi abbiamo proprio fuori dall'ospedale di Pescara un camper che paghiamo 4.500 euro al giorno d'affitto. Non si potrebbe acquistare quel macchinario, quella strumentazione? Purtroppo io ammiro molto chi sa descrivere le problematiche ma non le sa risolvere, perché è facile descriverle ma il problema sta nel risolverle. Il problema della cosiddetta TACPET mobile che ha permesso a migliaia di cittadini abruzzesi, perché non solo pescaresi, di fare indagini di alta specializzazione in loco senza essere trasportati, che molti sono pazienti ad alto rischio, parlo dei trapiantati, parlo dei pazienti leucemici, parlo dei pazienti oncologici, anche questo purtroppo spesso viene affrontato senza conoscere di cosa si sta parlando. In maniera superficiale. Superficiale. Allora, le cifre non sono quelle lì ma sono la metà, come costi... Quindi non si paga 4.500 euro. Poi, ma non è un'unica prestazione, se noi dividiamo anche le 2.000 euro circa che vengono spese per circa 20 prestazioni al giorno che vengono date, stiamo parlando di 500 euro ad esame, no, di meno, scusa, stiamo parlando di 170 euro, contro un DRG, quindi un rimborso della tariffa, di quasi 800 euro. Quindi noi ci converrebbe stranamente più pagare questo affitto piuttosto che affrontare l'impegno della strutturazione. Però anche questo... Non è che si potrebbe, si deve acquistare. Ma i fondi per questi acquisti sono legati a un finanziamento ministeriale il quale finanziamento ministeriale articolo 20 si è reso disponibile con la progettazione che il Ministero e la Regione ci ha valorato solo pochi mesi fa. Quindi noi, nell'emore dell'utilizzo di queste risorse della reingegnerizzazione dell'acquisto abbiamo dovuto provvedere perché il nostro ospedale non poteva mandare in giro questi pazienti. Quindi questo è stato lo spirito. Ma l'abbiamo fatto sotto costo. Cioè se in un'altra regione non avremmo pagato mille euro per mandare il nostro paziente non l'abbiamo fatto in casa a 170 euro. Quindi ci dovrebbero dare la lode per il risparmio e non per lo spreco di denaro pubblico. Purtroppo quando si parla in questi termini si fa procurata allarme ma si offende anche la dignità professionale dei gestori. Di queste cose ho sempre detto io sono abbastanza cinese con le mie... Ha le spalle grandi. Ho le spalle grandi ma ho la memoria lunga. Quindi io poi ho già accantonato a tutte queste inesattezze che mi vengono rivolte e in futuro mi riservo sicuramente. A proposito di inesattezze è vero che l'asile di Pescara ha acquistato un immobile proprio situato nei pressi dell'ospedale? Sì. Allora l'asile di Pescara tra le tante prescrizioni che noi riceviamo abbiamo ricevuto prescrizione per inadeguatezza degli ambienti di lavoro dei dipendenti amministrativi. Cioè questa asile è l'unica che scome non deriva da fusioni di altre asile come è successo Lanciano, Vasto o Chieti o le altre fusioni tipo Atri, Teramo, Giulianova non ha mai investito in uffici amministrativi ma ha sempre pagato affitti da 30 anni. Questa cosa ha creato grossi problemi anche alla funzionalità perché oggi molte attività non sono più separabili ma sono diciamo embricate. Faccio l'esempio del dipartimento patrimoniale quindi l'ingegneristica l'ingegneria clinica cioè queste strutture ormai devono stare insieme per poter lavorare bene non possiamo separare questi percorsi nella progettazione oppure l'esempio della ragioneria dei flussi statistiche del controllo di gestione dell'economato e del provvedorato. Il problema è un altro che quando si fanno queste operazioni bisogna vedere quando si va a recuperare in termini di affitti che se noi paghiamo oltre 300 mila euro per una struttura che non è a norma che deve essere evacuata perché ci sono delle come si dice delle ispettorate del lavoro più le attività diciamo il comune stesso ha dichiarato l'immobile evacuabile in quanto anche noi dobbiamo tirare fuori anche salute mentale e dobbiamo tirare fuori purtroppo anche i centri diurni quindi su una struttura che non è utilizzabile comunque te ne devi andare qui ci sono delle prescrizioni che se tu non rispetti diventano reati perché è mancata osservanza di una prescrizione e quindi il datore di lavoro è costretto quindi siamo trovati di fronte alla riallocazione di 150 dipendenti questo è stato allora abbiamo detto perché non fare un progetto finalmente anche qui di qualità su una struttura che noi possiamo far diventare in open space garantire il mercato elettronico garantire la centrale di elaborazione dati che non abbiamo a norma tutta una serie di cose finalmente questa azienda può essere anche utilizzabile dalla regione quindi questa è stata la logica acquistando quindi una struttura di oltre 3500 metri al costo di 700 euro al metro quadrato quindi spieghiamo chiunque a parlare di inappropriatezza perché questi sono molto al di sotto tenditore come si suol dire poche parole direttore naturalmente siccome viviamo a pescare ogni volta che si muove una pietra quando va bene c'è uno scorpione o qualcos'altro qualcun altro o forse secondo me le stesse lobby degli affitti non ha piacere affinché ci dotiamo di strutture nostre perché è molto meglio favorire gli affitti direttore purtroppo il tempo è tiranno un'ultima provocazione dopodiché la lasceremo a gustare i succulenti piatti preparati dallo chef del ristorante che ci ospita vale a dire il seeriver qui sul lungo fiume di Pescara avevano dato in partenza Claudio Damario dalla poltrona di manager adesso cosa è successo? ma guardi io sono stato raggiunto da alcune telefonate di giornalisti Pescara è una città di provincia quindi le voci si rincorrono siccome ho avuto dei periodi così di qualche giorno in cui mi sono dovuto assentare per motivi miei di relazione nel senso che ogni tanto diciamo mi chiamano a parlare di sanità o a relazionare cose diciamo di carattere professionale relazionale diciamolo pure l'avevano etichettato come uomo di centrodestra direttore ma guardi purtroppo questo è anche legittimo perché sono lavorato per tanti anni con un'amministrazione è legittimo che uno possa essere visto in questo senso ma è una cosa che diciamo del tutto normale quindi non è che mi possa così come ad esempio vedo articoli che c'è una parte di politici che rimprova il presidente perché io sono ancora al mio posto quindi ci sta tutto ma io penso che il tecnico deve fare il tecnico deve seguire quello che è un professionista che lo ha dimostrato con i risultati alla mano d'altra parte non è la prima volta che è ospite del nostro programma il tecnico deve raggiungere gli obiettivi che l'amministrazione politica decide cioè questo è il lavoro del tecnico quindi se aver fatto questo significa essere schierati ho fatto il mio lavoro e continuo a fare così come l'ho fatto prima con la stessa lealtà ed efficienza anche adesso quindi questo è il mio certo Claudio Damario ha anche una sua progettualità di uomo e di professionista e si guarda attorno ha ricevuto già tante proposte e le sta valutando anche da fuori regione sappiamo sì sì prevalentemente da fuori regione poi io oltre ad essere uomo e professionista sono anche padre quindi ho anche un progetto che vede l'era crescita dei miei piccoli figli il futuro della mia prima figlia e quindi mi piacerebbe capire bene entro l'anno prossimo cosa farà questa mia prima figlia e poi deciderò anch'io perché mi è sempre piaciuto decidere più che certo noi la conosciamo molto bene e la stimiamo grazie grazie e in bocca al lupo per la sua attività salutiamo e ringraziamo il direttore generale dell'asle di Pescara Claudio Damario ospite graditissimo del nostro programma andato in scena proprio qui all'interno del ristorante Sea River di Pescara un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e cena con l'ottima cucina marinara grazie dunque al dottor Damario grazie a voi a tutto lo staff del Sea River ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni ciao a tutti un'idea originale per la tua festa rendila indimenticabile con il festival della melodia emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale o addirittura con il festival dell'umorismo esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle insomma spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico affidati dunque alla trentennale esperienza dell'agenzia promozione spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11 il divertimento ti aspetta per un'estate da protagonista iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico Miss Adriatico 337 91 71 11 337 91 71 11 91 Grazie a tutti